Microfono senza filo per iPhone, quale scegliere? Ciao, sono Massimo e per i viaggi di Columbus oggi faccio un video diverso perché voglio raccontarvi come mi sono orientato per l'acquisto di un microfono senza filo per iPhone. Qualche settimana fa volevo acquistare appunto un microfono lavaliere, come questo, quelli che si attaccano alla giacca, alla grafatta o più semplicemente alla maglietta. Per il mio iPhone. Mi sono detto che cosa c'è di più semplice, vado su Amazon, scelgo un prodotto e in 24 ore ce l'ho a casa. Mai fatto un errore di sottovalutazione così grande, perché quando sono andato sul sito ho trovato decine di pagine con centinaia di prodotti, con mille recensioni che dicevano tutto e il contrario di tutto, da prezzi che partivano dalle 15 euro fino alle 300. Ma quale scegliere? Sono partito da un presupposto che quello di cui avevo bisogno era un microfono che fosse innanzitutto automatico, cioè che non avesse mille settaggi perché quando si ama a girare c'è da tener conto dell'inquadratura, c'è da tener conto di quello che si ha da dire e la posizione e non posso star dietro a mille settaggi del microfono. In più doveva avere una durata di batteria sufficientemente larga perché dietro a sei minuti di un video che vedete e trovate sul mio canale di viaggio ci sono delle riprese che vanno dalle 8 alle 12 ore tra scene fatte, rifatte, spostamenti e quant'altro e poi che abbia un raggio d'azione sufficientemente largo perché non sempre un'inquadratura si riesce a stare vicini al cavalletto. Ok, ho subito escluso i prodotti che erano sopra le 100 euro perché non sono sufficientemente tecnico per apprezzarne le qualità, ma ci siamo tenuti anche lontano dai prodotti dalle 15 euro perché sennò potevano essere veramente dei prodotti pessimi. Come nella maggior parte delle cose accade, la via giusta è sempre nel mezzo, ci siamo orientati su prodotti che andavano tra le 50 e le 60 euro e tra questi prodotti abbiamo trovato i Boyai B-Y-V2 che ci promettono una durata di batteria dalle 9 ore, un tempo di ricarica di 2 ore e un raggio di azione di circa 50 metri, ma vediamo se mantiene la promessa. Adesso facciamo l'unboxing e dopo il test. Ed ecco l'unboxing, questo il pacco come mi è arrivato da Amazon, questa è la scatolina molto piccolina perché i microfoni almeno da come erano descritti sembravano essere veramente piccoli, andiamo ad aprirlo, non ci sono sigilli. Cosa troviamo nella confezione? Il solito sligone per l'umidità, due microfoni trasmittenti lavaliere, condiello la sua mollettina per poter essere appunto appesa alla giacca, alla cravatta o alle t-shirt, regolabile. Una ricevente che va attaccata direttamente all'ingresso lighting dell'iPhone e due cavetti USB per poterli ricaricare. Speriamo che l'accoppiamento e il funzionamento avvenga in maniera semplice perché è proprio questo quello che cercavo. Quindi prendiamo, accendiamo i due microfonini, hanno due pulsanti, basta tenere premuto quello dell'accensione, accendo anche l'altro, ho preso il kit da due perché è molto comodo in quanto potrebbe anche capitare di fare qualche intervista, quindi avere due persone da microfonare. Prendiamo un iPhone, adesso lampeggia blu e rosso, come se stessi ricerca del segnale. Prendo la ricevente e la collego direttamente all'attacco lighting dell'iPhone. Ha lampeggiato per un attimo, è diventato tutto blu, quindi mi sembra che l'accoppiamento sia avvenuto, vediamo che cosa c'è sul microfono, c'è anche un altro puzzantino che è quello che è l'attenuatore dei rumori di fondo, quindi lo premo, vedo che diventa verde, quindi è un led multicolore che ci indica che è acceso l'attenuatore dei rumori di fondo. Bene, mi sembra tutto veramente molto semplice, non ci resta che andarla a testare, quindi torniamo al parco. Ed eccoci per il test. Siamo in un parco pubblico, ci sono rumori di fondo come persone che passano, uccelli cinquettanti e c'è anche una musica in lontananza. Ho attivato l'attenuatore di disturbi in modo da poter avere un audio migliore e su questa camera è collegato appunto il microfono che stiamo testando. Su quest'altra camera c'è invece il microfono che è in dotazione della camera stessa. Ovviamente, per differenza dell'audio, la potete apprezzare voi stessi. Non c'è bisogno che entro in tecnicismi anche perché non ne sarei in grado, l'unica cosa che voglio testare è lo spazio di lavoro, cioè qui adesso siamo a circa 5 o 6 metri. Vediamo di allontanarci almeno fino a 20-30 minuti e vedere se la copertura è ancora buona. È inutile andare oltre i 50 perché nell'inquadratura veramente saremmo dei soggetti talmente piccoli che neanche sarebbe percepibile. Quindi adesso mi allontano e vediamo se ancora è in grado di captare e ricevere il segnale. Ok, abbiamo raggiunto una distanza di circa 20-25 metri e questa è la risposta che dà il microfono con la ricezione. Qui siamo sempre con la camera collegata al microfono. Queste sono le vostre differenze e c'è da soltanto che da trarre le vostre conclusioni. Test concluso. Ringrazio la Boyei per averci fornito questo microfono che a un costo di 60 euro di listino che passa scontato a 50 mi sembra un rapporto qualità prezzo ottima. In descrizione vi lascio il link per l'acquisto sul sito di Amazon e tutti i dati tecnici. Il nostro video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale che stanno per uscire molti video sul mio canale di viaggio, che siamo stati nei vigneti più famosi della Toscana, nel paese degli artisti, fino all'ultimo angolo selvaggio d'Europa, perché la curiosità ci porta lontano. Ciao e a presto! Ciao e a presto!